Il Tarra Marche respinge l'istanza cautelare urgente per sospendere il provvedimento di DAD al 100% per le scuole superiori nelle Marche, ma chiede alla Regione di rivalutare la situazione alla stregua della nuova disciplina e dell'evolversi dei rilievi epidemiologici, tenendo presente la necessità di non penalizzare in via prevalente il diritto all'istruzione scolastica in presenza rispetto ad altri concomitanti fattori di rischio ambientale per quelle fasce d'età. La decisione dei giudici riguarda il ricorso presentato da alcuni genitori del Comitato Priorità alla Scuola contro l'ordinanza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha posto in didattica a distanza dallo scorso 27 febbraio le scuole superiori e le seconde e terze classi delle scuole medie delle province di Ancona e Macerata. Un pronunciamento, quello del Tribunale Amministrativo Regionale, arrivato nella tarda serata di ieri, che ha rigettato il ricorso dei genitori in seguito alla nuova ordinanza regionale, siglata da Acquaroli, che ha istituito la zona rossa nella provincia di Ancona fino alle ore 24 di venerdì 5 marzo. Intanto il gruppo di genitori sta valutando eventuali nuove iniziative dopo un sit-in di protesta per vedere se c'è margine nel nuovo DPCM per fare ulteriore ricorso. Il nodo, secondo il gruppo di genitori, è il fatto che tutte le altre attività restano aperte quando le scuole sono chiuse. Mentre i ragazzi la mattina sono a casa dalla scuola, il pomeriggio vanno a fare calcio o altre attività sportive. Infine, essendo aperti i bar per l'asporto, i ragazzi possono ritrovarsi lì. In questo modo i contagi non si abbassano e le scuole restano chiuse ad oltranza.